Perché non chiami? Dimmi perché? Mi sembra d'impazzire mentre aspetto solo te. Perché non chiami? Che cosa fai? Questa presa è insopportabile e non finisce mai. Non desidero nient'altro che ricevere un messaggio, ma la tua voce resta solo un miraggio. Non ti fai vivo perché non ne hai il tuo raggio, o sei partito per un lungo, lungo viaggio. Perché non chiami? Perché non chiami? Perché non chiami? È una presa insopportabile che non finisce mai.